Salve cari amici, tutto mi sono Francesco e bentornati nella soffizia di camera mia o benvenuti. C'è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi un albo che avevo acquistato a Rimini Comics, di cui volevo già fare una video-opinione prima di partire per il campo scout, ma che ho ritardato perché volevo cercare di approfondire, volevo cercare di rileggere il volume e quindi ho aspettato un attimino. Sto parlando del Un notturno che non fa dormire, Don Camillo a fumetti, di Giovannino Guareschi, che è l'autore e l'idiatore del personaggio di Don Camillo. 5,90€, formato classico di Diabolic, come si può vincere, e dalla copertina che richiama fortemente un qualunque albo di Diabolic, anche la costina monocormatica, con ovviamente qui c'è Don Camillo, non Diabolic, ma effettivamente la costina anche ricorda veramente tanto, e il retro con un personaggio che dovrebbe essere chiave all'interno del volume, mentre Peppone in realtà non compare minimamente all'interno della storia. Al di là di questa nota, sono uno di quelle persone che di fatto non conoscono per nulla Don Camillo, Peppone e Don Camillo. Non hanno fatto parte della mia vita questi personaggi, né con i racconti, né con i film che eppure mio babbo e i miei genitori piacevano, quindi non mi hanno mai trasmesso questa passione per questo personaggio. Nel momento in cui ho scoperto che effettivamente era uscito un albo dedicato a questo universo, mischiato in un qualche modo una sorta di crossover con Diabolic, ho voluto approfondire un pochettino, ecco non è che ho fatto chissà che gran approfondimenti. L'albo conta un centinaio di pagine, formato piccolino, quello proprio di Diabolic, copertina un pochettino più rigida, cosa che ho apprezzato rispetto ad un normale pocket di Diabolic. Test, sceneggiatura di Barzi ad esclusione sul soggetto di, per l'appunto, Giovannino Guareschi, tranne che per l'incipit e l'epilogo di questo volume, disegnato l'incipit da Arzeno e gli interni da Locatelli in collaborazione con Villa. Insomma, diversi autori hanno partecipato alla realizzazione di questo volume. Da un certo punto in poi, in realtà, ci sono un po' di approfondimenti sulla storia, su chi era Don Camillo, sugli autori che hanno preso parte a questa avventura, a questa storia nello specifico e che quindi hanno contribuito a realizzare questo albo. L'albo comincia con, per l'appunto, un prologo, un epilogo ambientato a Rimini. Ambientato a Rimini, in realtà non c'è molto a dire, però l'epilogo fungono effettivamente da corollario a quella che è una vicenda che vede questa ragazza, che si fa chiamare Kat, in qualche modo un richiamo anche visivo a Eva Kant, che crea casino, crea un pochettino di confusione, la nipote di Don Camillo, se non ho capito male, che crea un pochettino di confusione nel paese, nel borgo dove vivono i personaggi di Don Camillo. Effettivamente abitano in una città fittizia e per qualche motivo interviene anche un certo veleno che, come potete vedere, si veste un po' alla Diabolic. Compi diverse alcune imprese, insomma, una storia molto ordinaria e apparentemente insignificante. Apparentemente, perché comunque è una vicenda che potrebbe sussistere, che potrebbe effettivamente esistere. Non nei giorni nostri, molto probabilmente, ma che nel corso degli anni che furono, certi emoti giovanili, certe ribellioni giovanili, l'essere da parte di Kat, ma anche Veleno, che ha il suo atteggiamento abbastanza brusco, burrascoso, abbastanza ribelle a suo modo, e le guerriglie tra bande, in un periodo in cui effettivamente tutti erano non visti in maniera ottimale, con un prete Don Camillo che comunque riesce a risolvere situazioni anche piuttosto complicate e difficili, grazie al suo modo di fare e al suo cercare di mettersi in ascolto con le altre persone. Albo, quindi, che mi è risultato un pochettino particolare ostico, forse perché non conoscevo i personaggi, ma è decisamente piacevole, decisamente piacevole alla lettura, anche alla rilettura che ho fatto poco giorni fa, prima di fare questo video, un'iniziativa, questa del Cartoon Club per cercare di promuovere anche gli altri fumetti di Don Camillo che sinceramente non dico che lo farò, non dico che lo farò, però perlomeno mi hanno suscitato un pochettino di interesse e curiosità su questo personaggio. Ho tantissime altre letture, tantissime altre priorità, ma perlomeno mi hanno messo una pulce nell'orecchio. Questo è quanto avevo da dire per oggi, qui sotto nello spazio commenti ditemi qualunque cosa vogliate dirmi sul personaggio di Camillo, di Don Camillo Peppone o l'universo da loro creato da Giovannino Guareschi, qui da Francesco e dai miei amici nella soffitta di Camera Mia non più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!